Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa, venerdì 2 febbraio 2018, buongiorno da Giacomo Bianchi. Apriamo con il resto del Carlino di Bologna, poi andiamo a leggere le principali notizie di tutti i quotidiani di Bologna. Cominciamo proprio dal resto del Carlino, che nella fotonotizia di prima pagina titola Lo Stato dell'Arte. Parte oggi la 42esima edizione della fiera con artisti e gallerie italiane in primo piano. Ecco le 10 cose da non perdere approfondite all'interno del resto del Carlino. E poi la cronaca sempre in primo piano, moto si schianta contro auto, muore dirigente dell'ASL. L'incidente è avvenuto mercoledì, Adriano Grassi, 65 anni, viaggiava in sella ad una BMW in Viale Cavina. Il decesso all'ospedale maggiore dove era ricoverato in rianimazione. E poi la politica, sempre sulla prima pagina del resto del Carlino di Bologna, intervista a Salvini, Renzi vi prende in giro, a Bologna vinciamo noi e poi vandali anche al circolo del PD e le inchieste. Crack ferrovie del sud-est, arrestati tre bolognesi. E poi la zona della provincia, Danzola, estintori scaricati sugli animali del canile. Questo è sulla prima pagina del resto del Carlino di Bologna. Che titolo ancora? Sarò il portavoce dei sindaci al tavolo sulla sicurezza. L'assessore metropolitano persiano dice queste parole. E poi approfondimento su quello che succede in zona Savena. Furti e degrado al Savena, cresce la protesta. Questa è la prima pagina del resto del Carlino di Bologna. Prima pagina invece di Repubblica Bologna che rimane ancora una volta su Arte Fiera. Bologna è tornata a Fiera dell'Arte, attenti potrebbe non durare. Ieri l'inaugurazione, Vettese dice, la crisi ha lasciato il segno, guida al weekend più colorato. La foto notizia di prima pagina tra un'opera esposta nei padeglioni della nuova Arte Fiera che è stata inaugurata ieri. E poi in primo piano Farinetti difende Fico dicendo crea lavoro. E poi la guardia medica Frettolosa, Brolli curarsi disegnando orribili mostri. Ancora lo sport, Bologna ha un mercato da 7 più. Se Orsolini sfonda come viceverdi, arrivati Zemaili è uno dei ventenni più forti d'Italia. Oggi verrà presentato Riccardo Orsolini a Casteldebole. Non sono usciti i big dal mercato del Bologna, Repubblica da un 7 più al mercato rosso-blu. E poi ancora sulla prima pagina di Repubblica, Teneo in tilt per il concorso. 9.000 laureati senza crediti in fila per una cattedra. E la politica, oggi arriva Renzi, scritte contro di lui al circolo PD di Via delle Belle Arti. E ancora la politica, quando Errani e Bersani corteggiavano l'Udc di Casini. Questa è la prima pagina di Repubblica Bologna. Noi torniamo appunto su quanto è accaduto ieri. Perché sono comparse scritte insulti al segretario del PD Matteo Renzi e al suo partito nella notte scorsa. E di questo ha voluto parlare anche Pier Ferdinando Casini. Che ieri ha risposto, ha dato piena solidarietà al circolo di Via delle Belle Arti. Dove si è recato appunto nel pomeriggio, insieme ad Andrea De Maria e ad altri esponenti democratici. Ha parlato di quello che era successo. Andiamo a sentirlo. L'antidoto dell'amicizia e la serietà è... Noi non abbiamo nemici in questa campagna elettorale. Abbiamo persone che la pensano diversamente da noi, ma con cui vogliamo confrontarci sui temi, sul futuro del nostro paese, sulle grandi questioni che sono aperte. Ma non è che con la violenza e l'intimidazione si risolvono i problemi. Lì c'è una strada che è quella delle barbarie, della violenza, che non ha niente a che fare con quello che vuole rappresentare la coalizione che noi qui rappresentiamo. C'è una coalizione di persone che ha lavorato per il paese e che vuole fare le cose bene. Condannare anche questa tipologia di gesti e comunque ribadirlo ancora di più? Sì, sono gesti da condannare fatti nei confronti di chiunque. In questo caso sono state fatte qui in un circolo del PD. Se fosse un circolo di un altro partito lo condannerei allo stesso modo. Casini tra le altre cose ha parlato anche di politica. Ha messo a fuoco l'obiettivo di questa campagna elettorale che lo vede contrapposto ai leader di Leu sotto le torri. Allora andiamo a sentirlo. Sempre al microfono di Mario Giulianti. Mi sono ricordato in questi giorni che la volta che litigai con Renzi e lui poi ha fatto un post quando ha detto basta Casini eccetera. Voi sapete perché? Perché io la sera prima ero andato dall'annunziata e mi avevano detto ma lei tra Bersani e Renzi chi voterebbe alle primarie del PD? Io avevo detto Bersani senz'altro. Per cui io con Bersani e con Errani non ho solo rapporti di, per quanto mi riguarda, di stima eccetera. Qui il problema non c'entra nulla. Casini, Errani, Bersani. Qui il problema è se noi pensiamo che sia giusto fermare l'onda montante che in questo paese c'è di Cinque Stelle e della Lega. Basta. La nostra coalizione vuole fare questo. La nostra coalizione vuole cercare di evitare che anche a Bologna prevalgano questi signori che sono non nemici ma avversari politici. Rimaniamo ancora su questo argomento perché avete sentito in precedenza delle scritte che sono apparse al circolo di Via delle Belle Arti e allora di questo ha parlato anche Andrea De Maria, il deputato Andrea De Maria che ha commentato in questo modo l'atto vandalico della scorsa notte. Non so quanto c'è di la campagna elettorale. Non è da oggi che ci sono forme di intimidazione, di minacce, di insulti al periodo democratico. Noi non ci siamo mai fatti intimidire, certamente non ci faremo intimidire questa volta. Continuiamo a maggior ragione la nostra campagna elettorale con le armi del dialogo, della democrazia, dell'ascolto e il tentativo di intimidirci ci porta solo a un impegno maggiore. Io peraltro in questa sede martedì prossimo alle 18.30 inaugurerò il mio comitato elettorale. Io sono candidato qui nel collegio di Bologna a città e da qui guiderò, coordinerò il lavoro della mia campagna elettorale con ancora maggiore convinzione dopo quello che è accaduto. Per fronteggiare gli altri partiti l'importanza è essere uniti. Nel PD c'è questa situazione qua, si ambisce a questo? Il PD sta correndo unito a questa campagna elettorale, lo sta facendo a Bologna. Il 10 farò un'iniziativa con Gianni Cuperlo, che è un dirigente del PD a cui sono particolarmente vicino. Siamo tutti impegnati per fare vincere le ragioni del PD e del centro-sinistra e credo che questa terra saprà rispondere perché ha una storia, una tradizione, ha un'identità che si vedrà anche nel voto di queste elezioni. Andiamo adesso all'interno delle pagine del resto del Carlino. Partiamo da pagina 2, l'assedio dei criminali, titola il resto del Carlino. Al Sabena la situazione è ormai al limite. Furte e degrado, cresce la preoccupazione tra residenti e commercianti del quartiere. Paura, parlano appunto i residenti e i commercianti. Ogni mattina che apro spero di non trovare brutte sorprese in negozio. Finestrini spaccati. Martedì tre auto sono state prese di mira tra le vie Bellaria e Lombardia. Un altro episodio simile si era verificato pochi giorni prima. E poi ancora il bilancio generale sull'attività dei calabinieri che dicono però in realtà i reati predatori sono in calo. I dati sull'attività dei calabinieri della compagnia Bologna Centro riportano appunto queste informazioni e questi numeri. Si parla anche di cronaca. Anziano derubato con la tecnica dell'abbraccio è stata presa una rumena di 29 anni. Rimaniamo ancora sulla sicurezza. La gente ci chiede sicurezza. Parla il neossessore metropolitano persiano che dice ci metteremo la faccia. L'impegno riporta anche tra le altre parole di questa lunga intervista. Sarò il portavoce dei sindaci con prefetto e questore. Li rappresenterò al meglio. Queste sono le parole appunto di persiano. Il Carlino fa poi il punto della situazione. La nuova delega, la delega metropolitana al coordinamento della sicurezza, non era presente in precedenza a persiano. È il capogruppo PD a Palazzo Malvezzi. Con Aitini mi coordinerò con l'assessore alla sicurezza. Sono d'accordo con lui. Non basta la militarizzazione, serve coordinamento. Queste sono le parole appunto di Raffaele Persiano. Pagina 5. Banca rotta. Crack Ferrovie del Sud arrestati. Tre bolognesi ai domiciliari Carlo Beltramelli, la moglie e il cognato. La finanza sequestra 9 milioni. Incarichi d'oro, manutenzione dei convogli e indagini di mercato che sono state ottenute senza gara. Parla poi la difesa. Dice la vendita delle carrozze e gli altri contratti sono invece regolari. Maxi inchiesta a Bari. Tutto viene ripreso all'interno dell'articolo. Hanno venduto treni che non funzionavano. In manette sono finite poi altre 8 persone. Questo è riportato a pagina 5. Parte Arte Fiera a Bologna. E allora il resto del carino approfondisce anche questo aspetto. Taglio del nastro fra gli stand. C'è tutta la città. Ci sono anche le fotografie delle autorità presenti ieri sera appunto al Taglio del nastro. È partita la 42esima edizione di Arte Fiera. La casa bolognese del meglio dell'arte moderna e contemporanea e dell'editoria di settore. Tantissime autorità presenti. A partire dal presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Giuseppina Gualtieri, Matteo Lepore, Michele Paramatti, insomma e così via. Ovviamente il sindaco di Bologna, Virginio Merola e ancora tanti altri. Giampiero Calzolari di Bologna Fiere presenti a questa inaugurazione. E allora cosa non perdere? Arte Fiera, 10 opere da non perdere. Pagina 7 del resto del carino di Bologna. Riflettori puntati sugli italiani con 182 espositori. Domani l'Art City White Night. Eugenio Tibaldi alle 18 in Via Mentana, apertura dell'esposizione Inclusio. L'inclusione attraverso l'arte e la cooperazione. Ignacio De Pietra alle 18 in Via dei Foscherari. 19c inaugura Reconfiguration, personale del fotografo e videomaker spagnolo. E poi ancora la Fondazione Golinelli, a 19 del peficio Golinelli, Cristiana Perrella, dialoga con l'artista olandese Joop van Liegeut. Questi sono alcuni appuntamenti e poi tutti gli altri riportati su pagina 7 del resto del carino, le 10 opere da non perdere. Torniamo alla politica, pagina 8, verso il voto. Errani e idem sono il vecchio. A parlare Michela Montevecchi del Movimento 5 Stelle, Io rappresento la novità, tra le altre cose dice Terzo Incomodo, il Movimento 5 Stelle porta dei contributi, c'è già un bel programma, dagli altri non abbiamo invece ancora sentito nulla. Pronta poi al confronto, alcuni spunti della lunga intervista, non ho nessun problema a confrontarmi con i miei avversari, ho conosciuto Casini a Roma e non ho motivo per temerlo. Questo è quanto riportato a pagina 8. Si torna su quanto abbiamo già parlato in precedenza, ovvero ai Vandali, al Circolo PD. Riporta anche questa, pagina 8 e pagina 9, il resto del carlino. Vandali al Circolo PD a visitarlo. Arriva anche Casini, il candidato centrista tra le foto di Berlinguer e Imbeni. Oggi all'Opeficio Golinelli, presentazione del programma Dem. L'ex presidente non andrà al vernissage di Renzi, dice ho altri impegni e poi invece chiuso al pubblico. L'evento non sarà accessibile agli elettori, ma ci sarà invece la diretta di Facebook. Rimaniamo ancora sulla politica. Pagina 9, parla Salvini, dice vinciamo. Renzi prende in giro i bolognese. Salvini attacca i candidati della Lega a San Lazzaro. Da noi, gente del territorio. Sperimenti sui cittadini, in Emilia come in Toscana, molti sono pronti a votarci. I centri sociali li sigillo. Queste sono le parole di Salvini. E poi ancora Brunelli a zuppi. Guardo a biffi. La risposta sono laica in politica. A parlare a Elisabetta Brunelli, la candidata scelta dal centro-destra per sfidare Vasco Errani. Per Ferdinando Casini al Senato risponde dunque all'arcivescovo Matteo Zuppi. Questo è riportato sul resto del Carlino a pagina 9. Pagina 11, nodi dell'economia. Si parla di aeroporto, lavori alla pista. Il Marconi si ferma. Dal 14 al 18 settembre, voli azzerati per permettere il rifacimento dell'asfalto. Tra gli sponsor tecnici, Macron sul podio con le grandi. Inizio d'anno positivo per Macron nella classifica delle sponsorizzazioni tecniche dei club calcistici sportivi. Appena pubblicata dalla UEFA, l'azienda bolognese è di fatti terza dopo i colossi Nike e Addas con l'8% del mercato. Questo è quello che riguarda l'economia. Si parla anche di Philip Morris, Inap, Era, Lambo e Ducati. Top employer, sei bolognesi, certificate per qualità del lavoro. Questo viene riportato a pagina 11 in merito all'economia. Si parla poi di cronaca all'interno del resto del Carlino. Pagina 14, corsi per difendersi dai web predoni. Iscom e ConfCommerce lanciano l'Accademia della Cyber Security. Ogni anno sono vittime di attacchi informatici. Almeno 250 imprese viene parlato ieri di prevenzione. Dopo andremo a sentire nello specifico l'intervista del nostro direttore Francesco Spada. E poi ancora la cronaca. Ha morto il centauro ferito. Era un dirigente dell'ASL. Adriano Grassi aveva 65 anni. Lo scontro avvenuto in Viale Cavina. Questo viene riportato a pagina 15 del resto del Carlino. Pagina 16, pagina 17, scusate, si parla del libro. Sto presentato ieri rivive un libro. In un libro la città d'acqua e di seta. Dalla canalizzazione del Savina al primo mulino per filare per il prezioso tessuto. Nella fotografia sono ritratti Giancarlo Tonelli, Ad Graziano Prantoni, oltre all'autore del libro Marco Poli, e Antonio Monti, direttore scientifico del Mare per Mare bolognese, e Roberto Mugavero, editore con Minerva di questa pubblicazione. A proposito di questo parla Tonelli di Ascom che dice I due argomenti del volume sono importanti testimonianze delle nostre radici culturali. Questo viene riportato a pagina 17. Noi torniamo sulla produzione di Nettuno TV della giornata di ieri. Allora torniamo ancora sulla politica perché sono state chiuse le liste di Forza Italia in vista delle prossime elezioni. Andiamo a sentire il commento del capogruppo Forza Italia Marco Lisei sulle scelte fatte e sul discorso delle quote rosa. L'intervista di Mario Giulianti. Forza Italia ha delle ottime liste perché Bologna oggi esprimerà Galeazzo Bignami, Anna Maria Bernini, quindi persone del territorio che conoscono Bologna e la provincia di Bologna, che si impegnano e spendono il loro tempo da tanto e il loro impegno da tanto sulla città e quindi siamo assolutamente contenti di impegnarci per portare a Roma persone che possono rappresentare al meglio la nostra città e gli interessi della nostra città che sono spesso calpestati dalle amministrazioni locali. Per quanto riguarda le quote rosa invece c'è anche una presenza femminile abbastanza importante? Assolutamente, il nuovo assetto normativo prevede le quote rosa e prevede l'alternanza uomo-donna, l'abbiamo ovviamente rispettato ampiamente e anche l'impegno di persone che non vengono dalla città di Bologna come la di Girolamo o altri personaggi è proprio votato a promuovere appunto le tante donne che dentro Forza Italia si impegnano. Andiamo a vedere anche l'area metropolitana, la provincia di Bologna partiamo da Anzola, vandali al canile si sfogano sugli animali scaricati gli estintori contro le bestie e riscontrate irritazioni agli occhi il responsabile dice una vergogna, non si era mai sentita una cosa del genere tutto questo ad Anzola. San Giovanni invece è un ubriaco, si schianta contro un'auto parcheggiata e picchia un carabiniere, sono scattate le manette per un 45enne prognosi di sette giorni invece per il militare aggredito. Balsamoggia invece minacce su Facebook, Riuscigno dice reagisco, attaccato duramente il primo cittadino sta valutando un'azione legale a tutto c'è un limite dice il sindaco e questa volta si è passato le parole appunto di Riuscigno. Sempre in Balsamoggia, raffica di furti a Castelletto scatta la vigilanza civica almeno una decina di denunce negli ultimi giorni e i cittadini affiancano i carabinieri. Questo per quello che riguarda Balsamoggia ancora nella zona di Balsamoggia dopo otto mesi sull'Aventino è stato trovato l'accordo per il rientro la minoranza infatti torna a sedere in consiglio. Il clima è cambiato, il dialogo ha portato a fare prevalere la volontà costruttiva parla Andrea Finelli, neosegretario del PD. Questo è quello che riguarda il discorso di Balsamoggia su Casalecchio invece cioccolatiamo da domani a domenica la festa per i golosi a Casalecchio. San Lazare, Valle dell'Idice invece emerge il mondo delle paludi visite guidate dal WWF nei 30 ettari attorno alla città domani e domenica infatti iniziative che sono legate alla giornata mondiale delle zone umide questo è riportato anche sul resto del Carlino di Bologna nella parte del giornale che riguarda l'area metropolitana e la provincia. Castel San Pietro, vogliamo ridurre l'Atari, centro storico, mercato e tasse ecco qua i progetti dell'amministrazione che sono riportati a pagina 24 agevolazioni per i nuovi imprenditori, il calo della tassa sui rifiuti riguarda la nuova attività e quelle storiche in vista anche una semplificazione delle norme sui cambi di destinazione d'uso questo è quello che riguarda l'interno del resto del Carlino anche nella parte della provincia. Torniamo su una notizia che abbiamo letto in precedenza nelle pagine del resto del Carlino perché è nata l'Accademia Cyber Security per aiutare le aziende a difendersi dai rischi informatici e dagli attacchi degli hacker andiamo a sentire il direttore di Iscom regionale Andrea Babbi intervistato ieri in occasione appunto della presentazione di questo progetto dal nostro direttore Francesco Spara. Per di più noi siamo oggetti di questi rischi informatici non rendendocene conto ogni mattina, ogni giorno, ogni ora teniamo in mano una bomba a mano che è il nostro cellulare che può essere in ogni istante aggredito da persone che fanno questo in maniera criminale rubando materiali, documenti, password eccetera. Questo diventa un problema enorme per le imprese ma è un problema enorme anche per le persone per le famiglie, per i ragazzi, per le mamme, per gli insegnanti occorre con questo progetto Confcommercio e Iscom hanno voluto iniziare questa Accademia proprio per diffondere questa cultura dei rischi informatici alle persone, alle famiglie, alle imprese, agli imprenditori e ai nostri dipendenti è sempre più importante sapere per difendersi. Andiamo adesso all'interno di Repubblica Bologna si torna sulla Bologna, città dell'arte di questi giorni, nei padiglioni fioriscono i bollini rossi ma Vettese avverte nulla è scontato la direttrice dice che Bologna non si è preoccupata troppo della crisi e invece serve una scossa è l'unico weekend in cui se vi appoggiate a un lampione potreste essere scambiati per un'installazione e viene riportato anche in questo articolo firmato Emilio Marrese poi ci sono le fotografie dell'inaugurazione di ieri l'inaugurazione senza però il taglio del nastro arte fiera si è inaugurata ieri al 17 senza il tradizionale taglio del nastro presenti il presidente della fiera Calzolari presidente della regione Bonaccini sindaco di Bologna Virginio Merola la direttrice Vettese e tanti altri ospiti e poi ancora pagina 3 sempre di Repubblica Bologna sono riportate alcune delle principali attrazioni di questi giorni performance Zakharov o colazioni in galleria fate il vostro gioco 10 appuntamenti per il weekend vengono richiamati a pagina 3 la collettiva all'ex chiesa di San Mattia a Ancarani a Palazzo Renzo e le mille iniziative all'Accademia sono indicate a pagina 3 di Repubblica Bologna pagina 5 si rimane su questo Cattelan disegna la sciarpa per gli art ultras del mambo sabato il fischio d'avvio della stagione dell'ex forno e Villa delle Rose Balbidicce è concepita come un campionato con figurine panini e gadget sono riportate alcune delle sciarpe alcune delle figurine e ieri appunto i presenti all'inaugurazione con le sciarpe disegnate in occasione di artefiera in vendita al Bookshop e a Bologna Welcome Grandi dice siamo nella Premier League e nella Champions League giochiamo con le importanti istituzioni del mondo questo viene riportato appunto a pagina 5 pagina 6 corsa alle cattedre l'Ateneo va in tilt 9.000 laureati reclamano corsi senza i crediti in pedagogia e simili saranno esclusi dal concorso nazionale viene riportato a pagina 6 e poi ancora per quello che riguarda l'università esonero tasse in buona fede chi sbagliò riportata anche il risponso in merito all'esonero tasse e alla polemica che c'è stata torniamo sulla politica pagina 7 il centro-sinistra Renzi presenta il programma scritte con insulti alla sede PD al circolo di Belle Arti la solidarietà di Casini dice basta odio sul voto il segretario Dem oggi all'Opificio la fotografia riporta appunto le scritte che sono comparse nella scorsa notte e poi ieri Pierferdinando Casini nella sede PD di Via delle Belle Arti il caso quando Casini piaceva a Errani e a Bersani le avance dei due all'ex PD dell'index 2 ex PD a Pierferdinando Casini che di Renzi disse è più a destra è più a destra di me questo è quanto riportato a pagina 7 di Repubblica Bologna pagina 8 segnalata e punita dall'AS la guardia medica troppo frettolosa una paziente con un'embolia polmonare disse di prendere un antinfiammatorio denunciata è stata sottoposta a procedimento disciplinare e poi ancora la cronaca il Marconi chiude 5 giorni per lavori a settembre dal 14 al 18 di settembre nella fattispecie dalla mezzanotte del 14 alle 6 del 18 di settembre niente traffico aereo nella città di Bologna nello scalo sono previsti lavori di rifacimento della pista della pavimentazione e miglioramento della segnaletica rimaniamo ancora sulla cronaca Rissa alla mensa in via Zamboni vigile in ospedale ferito da un cane e poi ancora si torna su Fico invece a pagina 9 Fico Farinetti dice ha creato i 900 posti sugli interinali calo fisiologico invece di questo aspetto dopo la denuncia Will sul taglio di 90 contratti a tempo l'azienda risponde sono solo 30 ma non c'è un calcolo preciso questo è quanto riportato da Repubblica che dà anche alcuni numeri dei dipendenti e dell'indotto di Fico a Fico lavorano complessivamente secondo i dati forniti dalla società 900 persone tra dipendenti diretti e operatori negli stand gli interinali secondo la Will scadranno in questi giorni sono 90 per l'azienda invece sono solamente 30 e per quanto riguarda l'indotto secondo le stime dei promotori Fico ha creato 3000 posti nell'indotto questo è quanto riportato a pagina 9 pagina 11 si parla di sport si parla di Bologna avanti Orsolini le rede di Verdi subito alla prova tra i ventenni più forti d'Italia candidata a succedergli può già esordire domenica contro la Fiorentina nel derby dell'Appennino e poi ancora saluti a Maietta leader silenzioso per tutti i mari si è allungato vita e contratto a Empoli mancherà soprattutto nello spogliatoio questo è quanto viene riportato negli articoli firmati da Luca Baccolini per quanto riguarda il basket invece le brevi nel taglio superiore della pagina sportiva di Repubblica ma l'ex Ligione è diventato un giocatore degli Stings di Mantua e raggiunge dunque Davide Lama dopo la rescissione del contratto nella giornata di ieri con la Fortitudo e sempre per quanto riguarda la Fortitudo la sfida contro Trieste ha già il tutto esaurito si giocherà la settimana prossima giovedì prossimo alle ore 20 e 30 al Paladozza torniamo ancora sul lavoro redazionale di ieri a Nettuno TV perché il progetto del Village in zona universitaria a Bologna va avanti e con la sovraintendenza c'è piena sinergia a gettare acqua sul fuoco su un ipotitato contrasto tra comuni e sovraintendenti è stato l'assessore Matteo Liepore che ha parlato di questo al microfono e del direttore Francesco Spada vuol dire che in questo caso noi stiamo lavorando molto bene con la sovraintendenza nel senso che abbiamo presentato due domande una scadeva il 31 di gennaio e un'altra scadeva il 28 di febbraio noi abbiamo programmato le iniziative della zona universitaria fino ad aprile sono un centinaio di eventi in diversi luoghi dal teatro comunale al castello dei container con altri tanti spazi quindi noi porteremo avanti le iniziative la sovraintendenza ci ha proposto di chiudere le attività al 20 e noi ovviamente abbiamo detto di sì stiamo già lavorando insieme alla sovraintendenza per la programmazione estiva per cui con il sovraintendente ci vedremo a breve e presenteremo il progetto di allestimento per il periodo diciamo maggio-ottobre mentre per la fase marzo-aprile stiamo ragionando insieme anche alla prefettura e al teatro comunale per altre iniziative sempre per animare la zona universitaria quindi devo dire in questo caso c'è stata grande collaborazione Cambiamo argomento perché nella sede di Confartigianato Imprese Bologna si è tenuto ieri un incontro che è titolato Immigrazione tra integrazione e sicurezza la sostenibilità dell'accoglienza promosso appunto da Confartigianato Bologna era presente anche l'arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Zuppi che ha parlato al microfono di Francesco Spada Credo che una immigrazione senza sicurezza è rischiosa e può creare delle reazioni incontrollabili credo che siamo in ritardo perché è un fenomeno che giura già da tanti anni e che deve essere gestito con tutta l'umanità che questo richiede e anche con la sicurezza che è richiesta per noi e per loro e per quel futuro noi che sarà il nostro paese che non può non essere anche un paese d'accoglienza e che quindi deve ritrovare delle regole comuni che fanno bene per noi e per chi verrà qual è il modo in cui anche il mondo della politica deve affrontare il tema dell'immigrazione in maniera concreta uscendo dall'immediato il problema vero è che se uno pensa di risolvere i problemi con qualche strillo con qualche dichiarazione non inganna questo è il problema vero perché è ingannevole perché sappiamo che i problemi sono molto più complessi le persone sono consapevoli che i problemi sono complessi e richiedono soprattutto determinazione ma anche visione la capacità di dire noi vogliamo arrivare a questo e gestirlo e se invece il problema è incassare qualcosa o fare a chi strilla di più credo che questo inganna che le persone e soprattutto fanno illudere che i problemi possano essere risolti facilmente c'è bisogno di determinazione di chiarezza e credo che le parole di Papa Francesco su questo siano così ferme sia nel chiedere l'umanità ovviamente perché si tratta di persone di uomini di donne di bambini e non possiamo non affrontare questo con tanta umanità ma affrontare l'umanità non vuol dire il buonismo tutt'altro vuol dire saper aiutare e accogliere quindi appunto integrazione e sicurezza e su questo argomento andiamo a sentire anche le parole della vicepresidente della regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini Adesso siamo in una fase in cui in Emilia Romagna i flussi sono decisamente diminuiti quindi gli arrivi si sono arrestati per cui abbiamo anche l'hub di Via Mattei che insomma è praticamente vuoto ma proprio per questo dobbiamo fare il punto sull'integrazione cioè le persone che ospitiamo che sono circa 12.000 in regione devono avere dei percorsi di formazione di inserimento veri non finti cosa che prima era molto più difficile perché con la pressione degli arrivi facevamo fatica ad organizzare un sistema coerente di ospitalità a questo punto abbiamo i mezzi per farlo e quindi dobbiamo lavorare sull'inclusione soprattutto delle persone che hanno delle capacità e delle qualità da mettere in campo perché per non vedere persone per strada che chiedono l'elemosina ma che riescono ad inserirsi in progetti veri inizia la campagna elettorale c'è molto fermento nel centro-sinistra nel senso che chi dice che io sono il centro-sinistra tu rompi la colizia e non la rompo qual è secondo lei la situazione? diciamo questa litigiosità interna sicuramente non giova ovviamente ai cittadini che guardano e che sperano di avere delle proposte concrete su cui lavorare io do un giudizio molto positivo devo dire anche avendolo sperimentato in regione del governo della passata legislatura in realtà era un governo molto complicato che nasceva quasi da una paralisi nel 2013 poi invece sono state fatte delle cose importantissime penso ai fondi sulla povertà al fondo sul dopo di noi sul caregiver tutte cose che poi su cui noi regioni abbiamo potuto lavorare quindi mi auguro che più che alle divisioni si guardi un po' la concretezza dei programmi e che si possa avere un seguito per politiche veramente importanti per il bene comune andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali partiamo dal quotidiano nazionale dal resto del Carlino il volto dell'orrore la fotonotizia di prima pagina fermato nigeriano a casa sua i vestiti della giovane fatta a pezzi nel maceratese la mamma di la 18enne parla e dice sono bestie feroci devono soffrire e morire lentamente scoppia la polemica sugli immigrati le brevi poi per quello che riguarda il Bologna che abbiamo già visto muore in auto dirigente dell'Ase lo schianto avvenuto nella città di Bologna in Viale Cavina e poi oggi l'apertura di arte fiera il lungo weekend della bellezza e Roma poi miracolo di un'equipe italiana cellule riprogrammate per uccidere il tumore salvo un bambino di 4 anni e poi il caso Amazon braccialetti elettronici ai dipendenti buffera su Bezos e poi per quanto riguarda l'istruzione e la scuola scrive scuola con la Q e sciacquone e sciacquone e maestra viene licenziata a Venezia e poi ancora la prima pagina del resto del Carlino quotidiano nazionale manifesto antimolestie di 124 attrici italiane Asia sin furia fuori nomi contestiamo il sistema non i singoli questo è quanto viene riportato a pagina 11 del quotidiano nazionale prima pagina di Repubblica invece con il titolo che parla di politica Senato candidati Movimento 5 Stelle in affanno nella Lega scoppia il caso Veneto sondaggio sul voto scatta la speculazione tra i fondi USA e GB scommettono contro l'Italia la medicina per quanto riguarda la leucemia quel bimbo salvato dalla terapia genica e lo sport Mancino Conte per la nazionale che è stata commissariata si torna anche con la fotonotizia di prima pagina su quanto avvenuto in Polonia Shoah legge Bavaglio in Polonia Israele risponde nega l'olocausto è stata approvata dal Senato polacco la legge che vieta la definizione di campi di sterminio polacchi e proibisce di parlare di complicità con la Shoah Barsavia ignora così le proteste di Israele delle comunità ebraiche internazionali degli USA e di buona parte dell'Unione Europea la fotonotizia di prima pagina ritrae appunto il recinto di filo spinato attorno al campo di concentramento di Auschwitz e poi ancora molesti 124 donne e 124 donne delle cinema rispondono e dicono noi non abbiamo più paura e nelle brevi il taglio laterale di la prima pagina di Repubblica l'insostenibile leggerezza del giudice e poi il superotto cermisse la strage cancellata le verità delle cause sul disastro aereo non è mai stata raggiunta nel 13 febbraio 1998 quando un aereo militare americano tronca la funivia cavalese uccideva 20 persone questo approfondimento all'interno di Repubblica e poi ancora Pinocchio e il bracciale di Amazon l'inchiesta all'interno di pagina 28 di Repubblica per quanto riguarda la stampa invece comincia ancora con la politica il titolo di prima pagina Salvini mai un governo di Maio le parole di Salvini di Forum ieri alla stampa puntiamo a esteri giustizia e pubblica istruzione e voglio sgravi per chi investe in cultura Berlusconi prepara il piano B se il centro-destra perde pronto a scaricare la Lega questo è quanto riportato sulla stampa in prima pagina il manifesto delle donne basta molestie oltre 100 attrici e registe del nostro cinema lanciano un appello e dicono non dobbiamo avere più paura in alto da sinistra nella fotografia Ambrangiolini Paola Cortellesi Cristiana Capotondi e poi tutte e poi anche altre riportato a pagina 2 e pagina 3 questa notizia le storie per quanto riguarda gli approfondimenti della stampa arriva l'app che apre le chiese poi ancora il collezionista di figurine e Caserta una notizia di cronaca litiga con la prof e la sfregia con un coltello per quanto riguarda poi ancora gli approfondimenti davanti a Trieste la Slovenia si fa un'isola come a Dubai tutto questo approfondito a pagina 11 nelle brevi riportate nella prima pagina poi ancora della stampa la Polonia nega per legge la complicità nella Shoah ieri il voto del Senato e poi se il potere vuole scrivere la storia il pensiero di Giovanni Sabatucci all'interno della stampa andiamo a vedere anche la prima pagina di avvenire che titola colpevoli evasioni recupero record di 20 miliardi ma ne restano 110 le ricette dei poli dalla flat tax alla patrimoniale aumenta il gettito incassato grazie alle cartelle rottamate e il direttore dell'agenzia dell'entrata dice occorre fare pace con i cittadini crescono ancora gli spaltriati del fisco dai lavoratori agli elusori l'inchiesta all'interno di avvenire a pagina 5 e poi la fotonotizia di prima pagina terapia genica leucemia vinta successo al bambino Gesù con i linfociti programmati Palermo la cronaca 31 arresti l'azzardo della mafia 700 agenzie abusive e poi nelle brevi del taglio laterale India orissa le violenze contro i cristiani la giustizia tradita e Papa Francesco ancora che dice corruzione è volontà di potere e invita su questo alla preghiera la morte poi secondo il Papa altra approfondimento a pagina 2 guardare la vita come se fosse l'ultimo giorno questo viene riportato a pagina 2 le brevi notizie sempre su avvenire in prima pagina divieto nel taglio superiore divieto controverso sia la legge sulla Shoah così la Polonia sfida tutti e poi ancora armi 68 milioni al giorno e c'è anche l'atomica dossier sulle spese militari e poi progetto contestato da Amazon il braccialetto controlla dipendenti questa è la prima pagina di avvenire torniamo al lavoro relazionale di ieri perché è stato presentato nella mattinata di ieri il libro Bologna città delle acque e della seta cura di Minerva Edizioni ai nostri microfoni ha parlato il direttore scientifico del mare termale bolognese Antonio Monti che ha spiegato l'importanza della seta nella storia di Bologna andiamo a sentire noi abbiamo pubblicato questo libro riguardante appunto tutte le acque di Bologna ma in modo particolare quelli che sono i canali della seta hanno ormai questi canali che sono tanti a Bologna e sono denominati canali della seta perché i canali erano in funzione della seta e per ricordare un fatto molto importante a tutti i bolognesi che dal 1200 al 1700 la ricchezza di Bologna era la seta e purtroppo è questo fatto importantissimo per cui Bologna era la seconda città d'Europa per censo e per popolazione purtroppo questo fatto molti bolognesi non lo conoscono e allora noi vogliamo portare in auge la storia di Bologna abbiamo già parlato delle terme abbiamo portato in auge le terme che erano partite dall'imperatore Augusto oggi il mio gruppo vuole portare avanti il discorso della seta e quindi credo che sia un fatto molto importante che i bolognesi vedano questa pubblicazione scritta dal dottor Marco Poli che è un po' allo storico di Bologna e noi abbiamo incaricato lui proprio perché chiarisse in modo definitivo quelli che sono gli aspetti di Bologna legati alla seta perché io sono convinto che uno non può conoscere Bologna se non conosce la storia della seta bologna apriamo adesso la pagina sportiva andiamo a vedere il quotidiano sportivo che titola Sorpresa Bologna la fotografia ritrae Rodrigo Palassio e Blerin Zemaili in un mercato di grandi deluse i rosso-blu si sono rafforzati e poi ancora il Lega e FIGC Malagò e Fabricini commissari il primo obiettivo è scegliere il CT Costa Curta e Corradi per rifondare il calcio Panchina Mancini sembra essere in questo momento il favorito e poi il sesto cerchio sarà al via delle Paralimpiadi nello sci stiamo parlando di Davide Bendotti dall'incidente alla Corea la neve amica di Davide tutto questo riportato nel quotidiano sportivo si parla di basket ancora Coppa Italia Firenze sei anni dopo la Virtus è invitata al ballo delle grandi presentata ieri la Final 8 del 15 di febbraio c'erano anche il ministro dello sport Lotti e Fiona May al battesimo della Kermess del Mandela Forum di Firenze lo sport unisce uno dei temi che è venuto fuori per quanto riguarda anche il calcio nazionale Inter senza colpi Lira dei tifosi Via Suning Rivolgiamo Moratti e ieri Carlton Myers era al Fortitudo Point di Via San Felice gioca ancora per la Fortitudo tutto il movimento ti aspetta in Serie A1 il capitano ieri ha firmato autografia e la maglia celebrativa intanto l'Aquila libera Ligion che passa a Mantua tutto questo ieri nel ventennale del primo trofeo della storia della Fortitudo la Coppa Italia conquistata nel 1998 pagina 2 pagina 3 del quotidiano sportivo titolano calcio anno zero nominati nuovi commissari che dovranno rimuovere le macerie di Tavecchio e di Ventura Fabricini per la FGC e Malagò per la Lega ecco i dieci punti da cui dovranno ripartire questi dieci punti li andiamo a leggere in maniera molto veloce la scelta del CT Mancini è il favorito va bloccato il mercato degli under 15 e poi ancora per gli extracomunitari il numero va ridotto i giovani cittadinanza i nati in Italia la formazione la scelta di fare le seconde squadre dei club di Serie A e di Serie B e poi ancora il fatto che la Serie A vada ridotta a 18 squadre stiamo leggendo i dieci punti da cui ripartire riportati sul resto del Carlino nella parte sportiva e poi ancora per quanto riguarda lo statuto incarichi retribuiti in Lega Calcio facce nuove e credibili e poi ancora basta stadio del Medioevo per quanto riguarda gli impianti e da abolire il mercato di gennaio questo è i dieci punti riportati in questa analisi del quotidiano sportivo che riporta ancora Costa Curta e Corradi nella nuova squadra del governo la prima sfida è quella del commissario tecnico della Nazionale questo è quanto riportato per quanto riguarda i vertici di Figgici e Lega Calcio apriamo la pagina arrivata al Bologna intervista a Chiarugi che dice Donadoni deve far trovare continuità ai giovani Bologna ti ho voluto bene adesso serve un'identità per anni nel cuore Marino era straordinario avrebbe meritato di fare più strada come allenatore e poi il riassunto un po' di quello che sono state le sue parole lo chiamavano cavallo pazzo faceva gol anche dal calcio d'angolo speravo di restare poi arrivò a radice e portò i suoi giocatori dal Torino questa è anche la storia e la fotografia di Chiarugi del Bologna 79-80 delle figurine Panini per quanto riguarda invece l'attualità Bologna resta ancora a riposo Palacio in difesa sono in tre per una maglia l'argentino potrebbe farcela da Costa e ancora le prese invece con il mal di schiena Gonzale si è invece pienamente recuperato albetterà Doveri la gara tra Bologna e Fiorentina i precedenti non sono favorevoli ai rosso-blu l'ultima sconfitta proprio contro i Viola lo scorso aprile si analizza il mercato del Bologna a pagina 5 l'articolo di Massimo Vitali Bologna più forte ora divertiamoci Zemaili e Orsolini fanno crescere le ambizioni l'amministratore delegato Fenucci non si nasconde il messaggio a staff e giocatori abbiamo tenuto i migliori ci attendiamo una seconda parte di stagione che dia soddisfazione ai nostri tifosi ha parlato ieri Fenucci in occasione della presentazione del libro di Harp Advice al Museo Ebraico è stato riprodotto il libro scritto negli anni 30 da Harp Advice e Fenucci è intervenuto parlando anche del momento del Bologna per quanto riguarda però ancora il mercato da Masina a Don Sa alcuni nodi sono solo rinviati a giugno Bigon si è mosso anche sul mercato dei giovani alla primavera sono arrivati infatti Krastev Bufu Matton e Lidin le manovre per quanto riguarda il futuro non riguardano solo questi ma anche Petkovic o Cuoncu perché i loro prestiti servono per farli maturare e dunque aumentarne il valore si è saputo anche qual è l'infortunio di Simone Verdi dovrà stare fermo un mese per i problemi al bicipite femorale della gamba sinistra che è stato lesionato e dunque dovrà stare a fermo 30 giorni Simone Verdi Caos Nero Azzurro pagina 6 si parla di Inter dai sogni a rischio contestazione la famiglia Suning è insultata sui social per i mancati rinforzi e domani sera arriva il crotone di Inzenga ieri poi il funerale di Azzeglio Vicini a Brescia gli eroi di Italia 90 i lacrime per Vicini c'erano Beppe Bergomi Paolo Maldini e poi Baresi Aranio Serena Ferri e Tacconi scusate e poi ancora la fotografia che riporta Giancarlo Abete con Ines Vicini fotografia riportata a pagina 6 e per quanto riguarda lo sport di Bologna si riparte ancora dal basket Virtus la Final 8 la May va a canestro a Firenze che è armessa battesimo con l'ex azzurra che dice lo sport non ha confini al Mandela Forum e la rassegna della Coppa Italia dal 15 al 18 febbraio che assegnerà appunto la Coppa Italia in casa Fortitudo invece devi fare in fretta dice Calton Myers tutti ti vogliono in Serie A senza l'Efe manca qualcosa di importante stato ospite ieri al Fortitudo Point in via San Felice ha parlato anche del momento della Fortitudo Calton Myers che dice oggi al Paladozza si respira lo stesso clima di quando noi giocavamo in Eurolega e tra le altre cose dice in Coppa Italia di vent'anni fa fu il primo trofeo sia per me che per l'Aquila e questa è la ragione per cui c'è tanta gente in questo anniversario ieri il ventennale della vittoria della Coppa Italia della Fortitudo del 1998 Ligio ha lasciato Bologna Mantua è la sua nuova casa dopo che ieri è stato rescisso contestualmente il suo contratto il club bianco-blu non ha intenzione di sostituire subito l'alla statunitense senza fretta si cercherà un play nelle prossime settimane e poi il basket di Cisilver i giovani sono al centro l'SG fedele alla sua storia i ragazzi crescono in una nostra squadra a parlare è il responsabile tecnico di SG Fortitudo Matteo Lolli in questa intervista sul resto del Carlino si parla ancora di sport nazionale lo sport in pillole nazionale mondiale perché ci sono notizie che arrivano dalla Formula 1 i gran premi dalle 15 e 10 a partire dal prossimo anno tutto questo per attirare più pubblico e poi ancora l'intervista a Davide Bendotti Davide e la Corea grazie a Mamma Rosa fu lei a incontrare sullo skillift un ragazzo amputato che le spiegò come arrivare allo sport come avviare scusate allo sport il figlio in questa intervista firmata Leo Turrini dice ho perso una gamba in un terribile incidente in moto guidava un mio amico che ho perso lì io me la sono cavata ma ho dovuto lasciare il calcio e poi ancora sognavo Beckham e tifo l'Atalanta ma in quelle condizioni credevo di aver chiuso per sempre con lo sport e invece per fortuna ho trovato lo sci mi hanno aiutato molto Nadie Elena Fanchini hanno sempre superato incidenti e malattie succederà anche questa volta questa è l'intervista a pagina 11 del resto del Carlino della parte sportiva dunque del quotidiano sportivo noi adesso facciamo un piccolo break pubblicitario al rientro continuiamo la nostra rassegna stampa andando ad approfondire ancora i quotidiani nazionali i quotidiani bolognesi e la pagina sportiva attra poco